buongiorno ragazzi anche se è pomeriggio però a me mi piace dirvi più buongiorno ragazzi ehi cosa se la solita battuta non me ne frega niente la sentite stop e andiamo avanti oggi vi farò vedere una macchina da scalata per le rocce per le montagne innevate di terra di fango come volete insomma una macchina che è scala proprio scala 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 e infatti si chiama summit oggi ve la presenterò un bel summit nuovo 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 e ho detto me la devo far vedere per forza quindi la esamineremo nei vari dettagli e se volete commentate qui sotto nei commenti così ne discutiamo insieme sul fatto se ti piace oppure no questo tipo di auto per andare a scalerizzare ragazzi come sono scuro però prima che iniziamo se non avete fatto ancora iscrivetevi al mio canale e spuntate sulla mia campanellina di mister hobby così sarete sempre aggiornati sulle mie future uscite ci vediamo anche su instagram sono anche lì per qualche sbirciatina su qualche anticipazione ragazzi torniamo al summit allora il summit è dalla traxxas eccolo qua quindi già il nome dice tutto dalla macchina questa in pratica come funzioni le sue funzionalità sono simili a un trx4 infatti la radio è praticamente uguale con la levetta per il blocco dei differenziali è la prima e la seconda marcia come il trx4 ragazzi però la differenza sta nel fatto che ha il terario di un mostratto quindi del repone con le funzionalità del power dello sculler è grandissima ragazzi è in scala 1 a 10 riferita ai monster track veri quindi è più grossa di una scala 1 a 8 tipo pagino e vediamo i pneumatici sono praticamente nuovi guardate ragazzi appena toccato terra questi cerchi con degli inserti blu su di essi e la cromatura ragazzi la carrozzeria ben realizzata traxxas con i suoi fari led installati guardate ragazzi questa armatura tipo roll bar che proteggono la carrozzeria in pratica pure se si dovesse capovolgere ribaltare i danni sono minimi qualche graffietto perché c'è tutta questa struttura che protegge la macchina vediamo all'interno come è fatta ragazzi il telaio è della mitica erevo che semmai adesso vi farò vedere le due versioni in versione summit per scalare e in versione monster track per impennare ragazzi per impennare solamente che a differenza del levone qui non è installato il combo brushless ma un mega combo a spazzole quindi brushed classe 775 della titan la marca utilizzata da traxxas con il suo regolatore elettronico di velocità guardate questo blu praticamente che sicuramente è molto potente vediamo se c'è scritto sopra le sue caratteristiche viene alimentato da due pacchi lipo o batterie a celle michel metalli dura da 8,4 volt però potete alimentarlo anche con un pacco a due celle lipo ecco qua ragazzi batterie sempre traxxas io consiglio le lipo queste comunque sono ben pesanti quindi oddio dopo il peso in base al tracciato potrebbe avere la sua funzionalità come servo comandi ragazzi abbiamo i soliti due servo comandi micro dai traxxas molto affidabili che non si rompono mai in pratica waterproof e che praticamente azionano il cambio a due velocità e il blocco dei differenziali se non erro il gruppo cambio eccolo qua ragazzi con la frizione quella dell'erevo il case dell'rx resistente all'acqua qua i due servo comandi traxxas sempre resistenti all'acqua e il telaio dell'errevone lo conosciamo con questi quattro ammortizzatori installati in questa configurazione che nei monster truck ad alcuni piace e a qualche altro no infatti io preferisco nei monster truck gli ammortizzatori tradizionali in quella installati così verticalmente perché io anche avevo il levone quando facevo dei salti avevo sempre problemi di rottura di qualche asteina dell'ammortizzatore stesso e niente alla fine me lo so tolto lo posso dire visto che non sono pagato da traxxas quindi il levone me lo so venduto perché non mi andava di riparare sempre gli ammortizzatori e i link di essi ogni volta che andavo a saltare con degli amici il levone è molto spettacolare come auto corre un casino fa oltre 100 km orari quando installate un pignone più largo però sulle condizioni estreme non ci siamo traxxas dovete migliorarlo forse l'emax è migliore su questo punto di vista non lo so perché non ho avuto quindi non posso ipotizzo naturalmente è bellissimo a vederlo questo telaio con questi ammortizzatori messi così bisogna adesso vedere durante le prove di questa scaller se questa configurazione di ammortizzatori fa bene il suo lavoro ma questo lo scopriremo in seguito vediamo la carrenatura ragazzi ecco qua niente è proprio quella le revo è proprio quella le revo guardate proprio quella le revo con i semiassi in plastica questa è un'altra cosa che dopo hanno migliorato nel repone 2 li hanno installati in metallo però da questa parte non è come le revo guardate ragazzi i giunti omogenetici qui sono diversi la plastica sulle revo prendino a fine a battere qui quindi si arriva sul bozzo e solo quello è diverso infatti qui è un giunto no anche qui è un po' diverso si li hanno migliorati forse questi sono la nuova versione nel mio non erano così però sempre in plastica questi giunti soprattutto nelle giornate calde non dovete sforzarli perché si attorcigliano si squagliano quindi è un altro deficit che hanno dopo risolto della meccanica di questo modello di Traxxas motore titano a spazio abbiamo detto questo se si dovesse sporcare basta che in pratica applicate un po' di pulisci contatti quindi o a secco o olioso e il motore si riprende e va più forte di prima le batterie vabbè questo è il solito sistema delle revo si installano qua i servi sono digitali e questo ragazzi bella macchinina bisogna vedere adesso si scala si scala veramente andiamo, puoi accendere la radio accetto ecco qua è acceso guardate il red sia avanti che dietro ragazzi voglio vedere il fatto ah ecco qua c'era anche qua il servo comando scusate la smista eh si 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 ecco il cambio guardate secondo me questa macchinina sul telaio monster truck è veramente carina perché potete andare dove volete ma veramente in teoria dovrebbe superare qualsiasi tracciato non ha limiti in teoria anche perché lo fanno questi tipi di modello in quanto hanno i differenziali che si possono bloccare e il gioco è tutto là perché bloccando il differenziale allora potete andare dove volete e voglio dire ragazzi tanta roba ok ragazzi per oggi è tutto seguirà un altro video in merito al summit della traxas in azione oh come cuore quella se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al mio canale e spuntate sulla cammarellina noi tutti ci vediamo al mio prossimo video sono anche su instagram ciao ragazzi ciao ciao ciao